Benvenuti da Filo. Chi sono? Mi presento. Cari amici di tutto il mondo, ben trovati nel mio canale di italiano per tutti. Io mi chiamo Filomena e sono un'insegnante di italiano per stranieri. Vuoi imparare l'italiano? Acquisirlo velocemente? O semplicemente migliorarlo? Sei nel posto giusto. Questo è il canale che fa per te. E quindi non perdiamo tempo e vediamo subito dieci modi per presentarsi. Numero uno. Ciao, sono Michelle. Piacere di conoscerti, sono Luca. Numero due. Salve, mi chiamo Pablo. È un piacere incontrarla. Salve, piacere. Io sono Steve. Numero tre. Buongiorno, non credo ci siamo presentati. Io sono Steve. Molto lieta. Io sono Martha. Numero quattro. Molto piacere. Io sono Celine. Mi chiamo John. Molto lieto. Numero cinque. Io mi chiamo Filomena. Ma tutti mi chiamano Filo. Numero sei. Signor Hamilton, è un piacere. Per favore, chiamami Lewis. Il piacere è mio. Numero sette. Buon pomeriggio a tutti. Mi chiamo Brown Lee. Sono il vostro insegnante di Kung Fu. Numero otto. Vorrei presentarmi. Il mio nome è Bond. James Bond. Molto lieto di conoscerla, signor Bond. Numero nove. Pronto? Sì, sono il signor Rossi. Mi dica. E al numero dieci. Ciao caro, sono Lloyd. Non so se ti ricordi. Allora, per riassumere. Per presentarci. Salutiamo. Diciamo il nostro nome. E aggiungiamo. Piacere. Molto piacere. Piacere di conoscerti. Il piacere è tutto mio. Oppure Sono lieto. Sono lieta. Sono molto lieto. Sono molto lieta. E per oggi è tutto. Spero abbiate imparato qualcosa di nuovo. E che questi dieci modi per presentarsi siano utili. E voi non dimenticate di presentarvi nei commenti. Grazie e a presto. Ciao. 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 Grazie a tutti.